Il Comune sta tentando il tutto per tutto per accelerare la sostituzione delle funi portanti, 4 alla funivia del Gran Sasso. Intanto la funivia chiuderà il pubblico esercizio il prossimo 30 aprile, la stazione scistica ora chiusa per maltempo. Ma sul rifunzionamento della funivia i tempi sono incerti perché ci sono le procedure burocratiche da espletare per affidare lavori. A tal proposito l'amministrazione ha pubblicato un'indagine di mercato per avere intanto il progetto che costerà 200.000 euro, mentre la sostituzione delle funi costerà alle casse comunali 4 milioni di euro, già accantonati. Dieci giorni per rispondere all'avviso, poi gli operatori saranno invitati alla procedura negoziata. Successivamente si potrà andare a gara, altro passaggio, per i lavori veri e propri. Le funi vanno sostituite su imposizione della sfisa, dopo che il Comune ha perso il ricorso al Tarra, altrimenti la naturale scadenza per la manutenzione sarebbe stata il 2028. Di certo la stagione estiva è compromessa perché i lavori potrebbero durare mesi e mesi e se le procedure burocratiche non saranno snelle e veloci, il tempo potrebbe aumentare e potrebbe essere a rischio anche la stagione invernale. Il Comune nel frattempo non si è messo alla finestra perché ha fatto ricorso anche al Consiglio di Stato, ma non può aspettare, quindi intanto ha avviato le procedure per la sostituzione. L'operazione sarà complessa e impegnativa anche dal punto di vista finanziario, ma questo è, anche se il Comune continua a ritenere le decisioni incongrue per anticipare un'operazione che sarebbe stata comunque fatta nel 2028. Siamo a una settimana esatta dalla sospensione dell'esercizio della funivia in conseguenza al provvedimento del Ministero dei Trasporti. Io sono ancora fiducioso che il Ministero prenda in considerazione la buona volontà dell'amministrazione e la velocità del Sindaco a trovare risorse per affrontare i lavori. bisogna fare in fretta, i soldi ci sono, si devono spendere immediatamente, ogni giorno può essere la vita o la morte del comprensorio turistico del Gran Sasso. Quindi giochiamoci questa partita e cerchiamo di non morire di procedure o iter e di essere fattivi, veloci nell'impiegare le somme e nel ordinare le funi. Grazie. Grazie.